Gli insetti sono ecologici e nutrienti e non c'è nulla di male nel mangiarli. Le norme per la commercializzazione di questi cibi sono molto severe. Il regolamento per chi vuole vendere cibo della categoria Novel Food prevede un processo di approvazione lungo ben tre anni e mezzo, più una montagna di documentazione da fornire. Innanzitutto bisogna presentare domanda al proprio paese perché venga preparata una relazione di valutazione iniziale e scientifica da inoltrare alla Commissione UE. A quel punto la Commissione deve provvedere a trasmettere questa relazione agli altri stati membri, per raccogliere eventuali osservazioni e obiezioni motivate. Alle obiezioni motivate, che arrivano quasi sempre, il richiedente è tenuto a rispondere e i nuovi dati prodotti sono di nuovo valutati e, se non ritenuti sufficienti, si deve interpellare l'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. L'atto finale a cui si arriva è una decisione di autorizzazione, oppure di dimiego, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità. La procedura attualmente in vigore non fa distinzione tra i prodotti effettivamente innovativi e quelli che, invece, hanno già una storia di consumo sicuro nel paese non europeo di provenienza, e inoltre, prevede un'autorizzazione nominativa, destinata al solo soggetto richiedente, per commercializzare un prodotto già autorizzato, un eventuale secondo richiedente deve avviare una nuova procedura, ricominciando tutto da capo. Insomma, un gran caos. È per questo che alcuni stati, come il Regno Unito, l'Olanda, la Danimarca, il Belgio e la Svizzera, hanno deciso di semplificare l'iter di approvazione per ottenere l'autorizzazione al commercio di insetti edibili. In altri paesi, tipo l'Italia, non si è fatto nulla, però è comunque concessa la vendita di prodotti che hanno ottenuto l'autorizzazione secondo il regolamento sopraccitato. Quanto è successo al padiglione dell'Olanda e a quello del Belgio Expo nel 2015 non è altro che la cartina al tornasole di una discrepanza normativa tra gli stati membri che poteva trovare soluzione solo aggiornando le disposizioni legislative volte ad, armonizzare il mercato europeo. L'Unione Europea ci sta lavorando da tempo, la Commissione aveva già proposto di aggiornare il regolamento nel 2008, ma finora non si era arrivati a nulla di concreto. Le cose però ora stanno per cambiare, scatterà infatti dal 2018 il nuovo regolamento 2015-2283 UE, volto a conciliare le normative europee a snellire e semplificare il processo di approvazione dei Novel Food, così da assicurare un elevato livello di sicurezza alimentare. Tutto si appiana, viene affidata direttamente all'EFSA la valutazione per la sicurezza e si introduce una procedura più snella per l'autorizzazione di prodotti con una storia di consumo sicuro nel paese di provenienza. La cucina italiana è a rischio? Da quello che riportano numerose testate e da quanto dichiarano alcuni politici anti-europeisti, sembrerebbe che l'UE voglia costringerci a consumare alimenti a base di insetti e che questo possa mettere a repentaglio il Made in Italy, nonché la sicurezza dei nostri concittadini. Questo è impossibile, per due motivi. Il primo è quella sorta di tabù culturale di cui abbiamo parlato all'inizio, nessuno in Italia, almeno per il momento, farà a gara per mangiare ragni e scarafaggi. Il secondo motivo che dovrebbe tranquillizzare un po' tutti è che è l'Unione Europea stessa a tutelare il Made in Italy e quindi le nostre tradizioni. L'UE ha infatti istituito dei marchi DOP, IGP, STG, che proteggono giuridicamente quegli alimenti la cui qualità dipende essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. La maggior parte dei prodotti DOP, denominazione di origine protetta, IGP, indicazione geografica protetta, e STG, specialità tradizionale garantita, designati dal Regolamento 5102006-UE, sono italiani. Queste sigle garantiscono provenienza e qualità dei prodotti, metodo di produzione e materie prime utilizzate, e possono tutelare non solo il consumatore nelle sue scelte, ma anche il prodotto produttore stesso dai cibi copia, sicuramente in maniera molto più efficace dei post-allarmisti su Facebook e degli articoli di giornale Pressapochisti. La Corte Europea, inoltre, esige che l'etichettatura del cibo non traga il consumatore in errore, tutelando ancora di più il Made in Italy dall'Italian Sounding Food, che in Canada è in USA fattura più del doppio del nostro export. Sarà possibile vietare la vendita di insetti edibili in Italia? Secondo un'indagine col DirectX e la maggior parte degli italiani sarebbe contraria all'introduzione degli insetti edibili. Alcuni politici hanno deciso di mobilitarsi attivamente, hanno deposto delle mozioni per vietarne la vendita nel nostro paese o in alcune specifiche regioni, come Matteo Rankan, consigliere regionale dell'Emilia-Romagna. Sarà tutto inutile, visto che il fine del regolamento, come spesso accade con quelli stilati dall'Unione, è armonizzare il mercato europeo, stesse regole e stessi benefici per tutti gli stati membri. A questo punto sorge il dubbio che i politici che propongono il divieto in realtà e il regolamento non l'abbiano nemmeno letto. In ogni caso ogni nuovo prodotto entrato sul mercato sarà sempre venduto, a meno che non venga specificamente bloccato. Uno Stato membro potrebbe decidere di proporre la sospensione della vendita di un prodotto alimentare se dovesse ritenerlo pericoloso per la salute del consumatore. Segnalerà il fatto alla Commissione europea, la quale eseguirà un'indagine e, in caso di scoperta che il prodotto in effetti rappresenta un rischio per la salute di chi lo compra, ne vieterà la vendita in tutti gli stati dell'Unione. Oppure l'Italia, essendo, non fa mai male ricordarlo, uno dei paesi più inadempienti d'Europa, potrà vietarne direttamente la vendita e imbarcarsi nell'ennesima a costosa procedura di infrazione nei confronti dell'UE.